Tra i più piccoli, la buona abitudine a fare colazione non è del tutto persa. Il consumo di bibite durante i pasti è ridotto rispetto agli anni scorsi. Si mangia invece molta più frutta e verdura e cresce la consapevolezza dell'importanza di questi alimenti. Sono alcuni dei dati emersi dallo screening effettuato in alcune scuole elementari, dalla Federazione dei Medici Pediatri di Napoli nell'ambito del progetto EduCambiente. L'iniziativa è inserita nel percorso più generale di città ecologica ed ha coinvolto pediatri, genitori, docenti e alunni di 24 classi di 12 istituti per migliorare le abitudini alimentari sia a scuola che a casa. Dalla valutazione dei dati emersi saranno definite strategie più efficaci per la lotta all'obesità, sensibilizzando i ragazzi sull'importanza di una corretta alimentazione.